Mini Volley gratuito per i bimbi ucraini, l'iniziativa assolutamente lodevole è stata promossa dall'Associazione Sportiva Pallavolo Montesilvano 3. I corsi si svolgono nella palestra dell'Istituto Comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano. Il presidente Marco Volpe e il direttore sportivo Cristian Odoardi. La cosa carina che mi piace anche sottolineare sono gli altri bambini, quelli nostri, quelli di sempre. L'integrazione. Che li hanno accolti, fanno loro vedere gli esercizi da fare che poi i loro amichetti e le loro amichette ucraine poi ripetono. Quindi è una sorta di adozione a tutti i livelli, diciamo, dal presidente al direttore tecnico ma anche da bambino a bambino. Oltre 20 bambini che già stanno facendo allenamento con le nostre squadre. Chiaramente questo comporta da un lato una felicità immane anche semplicemente perché quando vediamo che sono un po' contenti, un po' spensierati, già ci è sufficiente. E siamo convinti che valga più quel sorriso di quel bambino che una vittoria in un campionato qualsiasi. Ma allo stesso tempo abbiamo ovviamente necessità anche di aiuto e di sostegno. In questo senso abbiamo anche aperto una raccolta fondi che dalle nostre pagine social ci si può accedere. Chiunque può in qualche maniera contribuire perché vorremmo provare a dare a questi bambini, oltre che uno spazio, un'ora, anche un minimo di abbigliamento più adeguato per fare sport, una maglietta, un pantaloncino, una scarpa. Intensa l'attività dei coordinatori dei profughi Alberto e Anastasia in una delle strutture che ospitano i tanti bambini e non solo. L'hotel Excelsior di Montesilvano. È chiaro che la vita di questi bambini profughi è cambiata in modo traumatico e purtroppo molto veloce. Quello che hanno vissuto e quello che stanno vivendo lo elaboreranno soltanto fra 10-15 anni, rimetteranno a fuoco ricordi. Sì, delle associazioni locali qui, grazie anche al comune di Montesilvano, stanno facendo molto per aiutare i bambini a creare una sorta di cuscino psicologico intorno a questa immane tragedia. e aiutano i bambini con giochi sportivi e altre attività che permettono loro comunque di integrarsi anche con i bambini locali. Dal punto di vista umano, Anastasia, si creano in queste situazioni rapporti molto profondi immaginiamo, no? Eh sì. Anche tra voi che vi occupate? Certo, da tutto il tempo che siamo qui siamo diventati tutta famiglia con le persone che sono venuti qua, anche se sono dai diversi città, i bambini che vanno a scuola ci sono trovati bene con i bambini italiani. Questo è un fine assolutamente nobile, ancora complimenti per quello che state facendo, anche perché state cercando di regalare momenti di normalità a questi bambini. Assolutamente, assolutamente. La normalità che in questo caso per loro è l'eccezionalità.